Nel caso l'asta andasse deserta e quindi non ci fossero partecipanti all'esperimento che si tiene presso i delegati alla vendita, il delegato alla vendita dopo aver sentito la parte creditoria e di concerto con il giudice dell'esecuzione, comporterà al prezzo base, all'offerta minima un abbattimento del 20 o 25%. Questo abbattimento sarà indicato quindi come nuovo prezzo base nell'asta che successivamente si terrà, mediamente tenuto conto degli obblighi pubblicitari, questo nuovo esperimento d'asta dovrebbe essere fissato con una cadenza trimestrale. Grazie a tutti!